Ci sono state donne che hanno contribuito a cambiare il mondo, che si sono battute per l'indipendenza e anche soltanto per poter studiare. E per questo sono state guardate con sospetto, le loro storie sono state travisate o tacciute. Una di queste grandi donne è Mileva Maric, la prima moglie di Einstein. La sua storia è diventata anche uno spettacolo dalla TGR della Liguria, Valentina Gregori. Mileva rappresenta un passaggio fondamentale per tutti noi. Noi oggi realizziamo i nostri sogni, possiamo fare quello che vogliamo, grazie a personaggi coraggiosi che nel passato hanno tracciato una strada. Mileva Maric è una donna importante nella storia, come altre scienziate e pioniere di cui Gabriella Grayson, fisica e divulgatrice, ha già raccontato a teatro. Lei era la quinta donna in assoluto a frequentare una facoltà scientifica, si è iscritta al Politecnico di Zurigo e lì tra i banchi di scuola ha conosciuto Albert Einstein e Einstein è rimasto affascinato da lei. Mileva aveva già superato numerosi ostacoli per studiare e altri ne avrebbe trovati. Ha avuto un percorso molto più complicato, le donne a quei tempi avevano la strada sbarrata in tante discipline scientifiche, nella fisica figuriamoci che la scienza è più dura. Per dire, Lise Meitner quando frequentava fisica doveva entrare dal retro, non poteva entrare nell'entrata principale. Marie Curie stessa doveva autofinanziarsi il lavoro. Mileva, per esempio, quando è andata ad Heidelberg in Germania e voleva fare gli esami lì di fisica, il professore le ha detto no, non è possibile, le donne non sono messe agli esami finali. Eppure fu grazie a lei, si pensa, che Einstein riuscì a tenere insieme e dare un ordine ai suoi calcoli e ai suoi ragionamenti che lo portarono all'annus mirabilis 1905, quando pubblicò quattro articoli che rivoluzionarono la fisica. L'amore poi finì ed Einstein dettò delle condizioni che Mileva si rifiutò di accettare andando incontro al divorzio e alle difficoltà. Ti atterrai ai seguenti punti per regolare i rapporti personali con me. Uno, non ti aspetterai alcuna intimità da me e non mi rimproverai in alcun modo per questa mancanza. Due, lascerai immediatamente la mia stanza da letto, il mio studio, quando io ne farò richiesta. Tre, smetterai immediatamente di parlare quando io ne farò richiesta. D, non cercherai di sminuirmi in alcun modo né con le parole né con i comportamenti davanti ai nostri figli. Nel suo Einstein and me, Grayson dà un lieto fine alla storia di Mileva. La descrizione che faccio io di Mileva è del tutto diversa da quella che abbiamo letto finora, perché io do vita al suo lato scientifico, al fatto che era secchiona, essere secchione oggi è figo. Ho fatto un sondaggio, Harry Potter è il personaggio più amato per i bambini in tutto il mondo. Non dicono Harry Potter che è un maghetto con i poteri che gli sono arrivati dall'alto, miracolato. No, dicono tutti Hermione, perché è quella che studia, la secchiona. E Mileva oggi viene rappresentata da tutti noi, da tutti noi che ci prepariamo e che vogliamo fare bene il nostro lavoro. E oggi possiamo realizzare i nostri sogni grazie a persone così.